Ehi, Anna, ciao. Chi? Sì, lo conosco. Sì, Roberto Coradino, lo conosco. Beh? Ma che stai dicendo? Ma se l'ho incontrato due giorni fa, stava benissimo. Vabbè, eh? E perché è morto? Con perché sì? Che vuol dire perché sì? Ma non è una risposta perché sì. E vabbè, lo so che l'ha morto un giorno o l'altro arriva per tutti, però non era il suo momento, insomma. È giovane. Scusami. Un balcone in testa, non lo so, è stata vittima di una rapina. No, perché sì? Vabbè. Ah? Un punto di morso, un letto di morso, quindi stava male. E vabbè. E che ha detto? Ha voluto lasciare. Pure un pensiero a me. E che ha lasciato a me? Ah, 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 costume di scena. Ah, ah, eh, me lo prende. E vabbè. Niente ori, niente col, non ha lasciato niente. E vabbè, quando è me lo passa a prendere? Vabbè, che poi appunto, un giorno o l'altro tutti dobbiamo morire. E vabbè. Chi prima, chi dopo. Vabbè. Vabbè, Anna, allora niente, ci sentiamo sabato per la pizza, eh. Beh. Ciao. Ehi, salutami tutti. Ciao, 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 ciao. 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 Grazie.